E parla di una persona che attende qualcuno che non potrà rincontrare al di fuori del carcere perché quel qualcuno non tornerà mai più in libertà. Anni scrive ancora ogni lunedì, Anni ancora crede che uscirò da qui, Anni non conosce la rassegnazione e crede alla giustizia che non è fatta per noi. Tra quanto un vento ti arrenderai, Raccontami se vuoi le tue giornate a mai, ma non mi parlare più di comprensione. Quanto mi fa male saperti come sei, Ho vinto ad un futuro che non farà mai per noi. Ti farà male quando saprai, Ma se potessi rivederti sorrire, Ricominciare a sperare, In noi il fuori ingresarà. E mi scrive ancora ogni lunedì, Sa perfettamente che non uscirò da qui. È il mio che mi dice di non volare mai, Ma notte dopo notte dovrà chiedersi se Scrive ancora ogni lunedì, A nomi, A nutser, Jer influencesi, Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.